Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa sessione, direi di cominciare anche perché come avete visto dal programma abbiamo un vincolo preciso che sono le 16.45 quando ci saranno le conclusioni e i saluti del Presidente Golini. La sessione è chiara, parliamo del volontariato, parliamo di quello che è probabilmente il fulcro di questo comparto, di questo settore. Cito a memoria prima che la Dottoressa Stoppiello ci faccia il quadro strutturale dell'azione volontaria del non profit, parliamo di poco meno di 5 milioni di volontari, questo è quello che ha rilevato il censimento, più di un terzo di questi sono volontarie, sono donne, circa l'80% delle istituzioni che abbiamo censito operano con personale volontario, quindi è chiaro che le riflessioni che vengono proposte oggi dai relatori colgono il centro e il cuore di questo comparto. Io mi limiterò a fare soltanto il distributore e il dispensatore di minuti perché se riusciamo a stare nei 20 minuti di ciascun intervento abbiamo anche poi modo e tempo di aprire un mini dibattito, rispondere a qualche domanda, a qualche curiosità che può venire dall'uditorio. Quindi io do la parola alla Dottoressa Stoppiello dell'Istat, responsabile del censimento di istituzioni non profit, quindi avete la fortuna di avere fisicamente colei che ha fatto tutti questi dati che siamo, che così sono interessanti, è bellissimo vedere fisicamente l'autore, non capita spesso. Quindi do la parola alla Dottoressa Stoppiello che ci dà un quadro d'insieme della struttura e delle caratteristiche del volontariato nel non profit. Buongiorno a tutti. Come diceva il Dottor Lorenzini, il mio intervento ha l'obiettivo di delineare il quadro del volontariato, quello di darvi le principali dimensioni del non profit italiano, del volontariato nel settore non profit italiano, di rappresentare le caratteristiche principali dei volontari e di delineare quelle che sono le peculiarità delle istituzioni non profit che operano prevalentemente o esclusivamente con risorse di carattere volontario, in relazione quindi alle attività che svolgono, ai servizi che erogano, all'orientamento e ai destinatari dei servizi prodotti. Questi numeri forse già li conoscete, allora quindi l'accensimento ha rilevato in Italia 4.758.000 volontari che sono cresciuti rispetto al 2001 del 43%, le istituzioni non profit sono a livello nazionale 301.000 e le istituzioni non profit che hanno volontari in organico rappresentano quasi l'81% di tutte le istituzioni rilevate, con una crescita anche in questo caso abbastanza consistente rispetto al 2001. Allora, la distribuzione dei volontari per settore di attività, forse anche questa è già nota, sono dei dati che abbiamo già diffuso anche a luglio dello scorso anno e quasi il 59% di volontari è attivo nel settore della cultura, sport e ricreazione dove sono appunto quasi 3 milioni i soggetti che prestano le attività volontarie nelle istituzioni culturali, sportive e ricreative. Poi abbiamo circa 600.000 volontari che lavorano nel settore dell'assistenza sociale, 438.000 nel settore della sanità e poi 270.000 sono i volontari attivi nei settori della tutela dei diritti, delle attività politiche, delle relazioni sindacali e la rappresentanza di interesse. Un altro settore, questi li abbiamo aggregati per facilitare la sintesi, 199.000, circa 200.000 volontari sono attivi nei settori della filantropia e promozione del volontariato e nella cooperazione e solidarietà internazionale. La quota, diciamo, il confronto fa notare che in realtà i volontari sono cresciuti in tutti i settori di attività, ad eccezione del settore della tutela dei diritti e attività politica e delle relazioni sindacali e rappresentanze di interessi. Però in tutti i casi, vedete, c'è stata una crescita notevole che è più rilevante sia in termini di istituzioni che in termini di volontari nei settori della cultura, sport e ricreazione, nel settore della tutela ambientale e soprattutto nei settori della filantropia e cooperazione internazionale, i quali sono i settori che anche se più piccoli dal punto di vista delle dimensioni, diciamo, in termini di quota, sono meno numerosi in termini di istituzioni di volontari, ma sono quelli che hanno registrato una crescita effettivamente esponenziale sia di istituzioni di unità che di volontari attivi. Alcune informazioni su quelle che sono le caratteristiche principali dei volontari italiani, quindi sono i 4.758.000 si distribuiscono tra uomini e donne, una percentuale che fa prevalere gli uomini con il 62%. L'età dei volontari è abbastanza, diciamo, la distribuzione dei volontari per l'età è abbastanza articolata, anche se, diciamo, il 43% è costituito da volontari adulti, dai 30 ai 54 anni. I giovani rappresentano il 20%, i giovani che hanno un'età inferiore ai 29 anni sono il 20% di tutti i volontari italiani e invece gli over 64% sono il 14%. Rispetto al titolo di studio, la metà dei volontari italiani ha un diploma di scuola superiore e poi, diciamo, la rimanente metà si distribuisce quasi in maniera eterogenea ma con una maggioranza rispetto ai volontari che hanno la licenza media, che sono un terzo dei volontari italiani. Per quanto riguarda la condizione professionale, anche in questo caso il 55% è costituito da occupati, sono comunque persone che lavorano, che prestano la propria attività volontaria in istituzioni ovviamente distinte dal posto, dal luogo di lavoro. Il 16% è in altra condizione lavorativa, quindi studenti o casalinghe e il 27,8% è costituito da ritirati, quindi persone ritirate dal mondo di lavoro, quindi pensionati. Ovviamente questa distribuzione, queste caratteristiche, i settori in cui i volontari lavorano si caratterizzano per una maggiore o minore prevalenza rispetto ai volontari, alle loro caratteristiche. Per cui rispetto per esempio alla distribuzione per genere, si nota che gli uomini sono relativamente più presenti rispetto alla distribuzione della composizione nazionale nei settori della cultura, sport e regolazione, della tutela ambientale e della tutela dei diritti, quindi le attività politiche e rappresentanze sindacali. La componente femminile invece è prevalente nei settori che fanno attività di istruzione di ricerca, di sanità, di assistenza sociale, di filantropia e promozione del volontariato e la cooperazione internazionale. Anche la distribuzione per titolo di studio, per età risente, in qualche modo è caratteristica rispetto ad alcuni settori, per cui anche in questo caso i giovani sono prevalenti nel settore della cultura, sport e di creazione, mentre il settore dell'assistenza sociale e protezione civile e della sanità vede una maggiore prevalenza di figure adulte e anche, diciamo, anziani. La tutela dei diritti e attività politiche invece e le rappresentanze sindacali è caratterizzata da una presenza di persone che invece hanno un'età, sono adulti e vanno soprattutto dai 30 ai 64 anni. Queste caratteristiche si ripresentano anche rispetto al titolo di studio, dove in realtà sanità, assistenza sociale, e protezione civile e ambiente vedono la prevalenza di soggetti che hanno un titolo di studio inferiore o uguale alla licenza media, mentre ambiente, tutela dei diritti e attività sindacali vedono la prevalenza di laureati. Nel settore della cultura, sport e ricreazione invece la prevalenza è determinata essenzialmente da persone diplomate o con licenza media. E infine anche la condizione professionale in qualche modo legata al settore in cui il volontario magari decide di prestare la propria attività volontaria. Per cui in questo caso la cultura, sport e ricreazione e l'istituzione ricerca vedono una prevalenza di volontari che sono occupati, quindi che sono presenti nel mondo del lavoro, così come anche ancora la tutela ambientale e la tutela dei diritti e relazioni sindacali. Mentre la sanità e l'assistenza sociale vede una prevalenza di persone ritirate dal mondo del lavoro, che in qualche modo è coerente con l'idea che dicevamo prima di persone che hanno un'età più alta e in alcuni casi è un titolo di studio più basso. Ovviamente le istituzioni non profit si caratterizzano rispetto alla prevalenza o meno, cioè alla tipologia di risorse umane che impiegano nel settore. E la stessa tipologia di risorse umane è in qualche modo delinea degli ambiti di attività diversi. Per cui le istituzioni che operano prevalentemente con volontari sono attive in determinati settori quali appunto la cultura, sono maggiormente attive, più relativamente superiori al dato nazionale, nel settore della cultura, sport e ricreazione, nel settore della tutela ambientale, della filantropia e promozione del volontariato. A livello nazionale rappresentano il 74,7% dei casi, per cui il 74%, quasi il 75% delle istituzioni non profit italiane lavora con volontari in forma esclusiva o in maniera prevalente. Le istituzioni invece che lavorano con lavoratori retribuiti, che operano con lavoratori retribuiti, ovviamente sono più concentrate nei settori dove è più rilevante, è più importante l'apporto e erogano dei servizi più strutturati, che prevedono una compensazione organizzativa maggiore e quindi nella sanità, nell'assistenza sociale, nel settore dell'istituzione e ricerca, nel settore della tutela e della rappresentanza degli interessi, dove appunto sono prevalenti le istituzioni che lavorano con personale retribuito. L'intervento ha l'obiettivo di focalizzare le caratteristiche delle istituzioni non profit che operano prevalentemente o in forma esclusiva con volontari, per cui abbiamo selezionato, rispetto a tutto il mondo, l'universo non profit, quelle istituzioni che lavorano, che hanno il 75% dei volontari nel proprio organico, il 75% è oltre di volontari nel proprio organico, quindi la componente principale è quella delle risorse volontarie. Si tratta di 224 mila istituzioni che sono pari al quasi 75% del settore e che concentrano 4 milioni e 600 mila volontari, che sono quasi la totalità dei volontari italiani, per cui questo è un elemento molto interessante, ci fa capire che alla fine i volontari italiani lavorano, per la maggior parte dei casi, in istituzioni che svolgono le proprie attività solo ed esclusivamente con volontari. sono per periodi di costituzione, la distribuzione per periodi di costituzione ci fa capire che in realtà le istituzioni, queste istituzioni che io ho definito volontarie, diciamo in termini convenzionali per dare un'etichetta, sono nella maggior parte dei casi abbastanza giovani, infatti nel 46% dei casi nascono dopo il 2001 e nel 25% dal 91 al 2001. La composizione, ovviamente il tipo di attività è in qualche modo anche legato alla origine, per cui in realtà le istituzioni, dal grafico si evince che le istituzioni di antica origine sono diciamo le istituzioni che presenti tradizionalmente nel settore non profit, nel terzo settore, per cui abbiamo una percentuale più alta di istituzioni nate prima del 1980 nella sanità, ad esempio, nel settore della sanità e anche della filantropia e della promozione del volontariato, mentre le istituzioni più giovani sono quelle nate diciamo dal 2001 in poi o dal 2011 in poi nei settori dell'ambiente, diciamo quei settori un po' più innovativi, più nuovi, che sono appunto la tutela ambientale, i settori della cultura, dello sport e di creazione e anche il settore dell'istruzione e ricerca in alcuni casi. Le classi di entrate, allora una primissima informazione, poi in realtà questi diciamo attraverso i dati dell'accensimento si possono fare tutta una serie di analisi di approfondimento, ma diciamo in sintesi volevo darvi un elemento rispetto a quelle che sono le dimensioni di queste istituzioni, che in realtà sono abbastanza contenute. Infatti considerate che stiamo parlando del 75% di istituzioni non profit che hanno un montare di entrate pari al 16% delle entrate complessive del settore e vedete che la distribuzione per classi di entrate è significativa, per cui abbiamo tantissime istituzioni non profit che hanno delle entrate molto basse, quindi fino a 5.000 euro e poi a seguire il grafico è abbastanza significativo perché vedete che la quota delle istituzioni non profit scende al crescere delle entrate, per cui abbiamo soltanto lo 0,9% delle istituzioni volontarie è in una classe di entrate che supera 500.000 euro, per cui le dimensioni diciamo in tipo economico sono abbastanza contenute. Nel censimento abbiamo rilevato anche l'informazione rispetto al fatto che i volontari che prestavano le proprie attività dell'organizzazione fossero o meno soci della stessa e si nota che dall'analisi della relazione che esiste fra i volontari e i soci, si nota che in realtà le istituzioni non volontarie, in queste tipologie di istituzioni l'associazionismo è più forte, la dimensione associativa è più forte, per cui vedete che il 97% di istituzioni volontarie ha dei soci ed è una quota più alta di quella del dato nazionale, i soci volontari sono 3.548.000 a livello nazionale, il 96% di questi fa parte di queste organizzazioni. Queste poi sono informazioni che vi lascio approfondire dopo. E qui in questo caso questa tabella presenta proprio la quota, la partecipazione sociale dei volontari alla compagina organizzativa, in qualche modo è legata anche ai settori, cioè è più o meno prevalente a seconda anche del settore di attività in cui esse svolgono la propria attività. Per cui la percentuale dei volontari soci sul totale dei volontari dà l'idea di quella che è la partecipazione dei soci alle attività dell'organizzazione e quindi è maggiore nei settori per esempio della cultura, sport e ricrezione, ma soprattutto della sanità e dell'ambiente. E così invece la percentuale dei volontari soci sul totale dei soci fa capire quanto in realtà i soci dell'istituzione poi svolgano anche delle attività di carattere volontario all'interno della stessa, quindi in qualche modo è un'istituzione che lavora con la propria compagina associativa. E questo è evidente in alcuni settori, quali quelli dell'assistenza sociale e protezione civile, dell'ambiente e della filantropia e della proporzione del volontariato. Una distinzione importante che si riesce a fare nella conità del censimento è in base all'orientamento dell'istituzione, che può essere solidaristica o mutualistica a seconda dei destinatari dei servizi prodotti. Quindi le istituzioni mutualistiche sono orientate, producono dei servizi orientati soltanto ai soci e invece le solidaristiche sono le istituzioni che svolgono attività che sono orientate alla collettività ai soci o comunque alla collettività in generale. E il 61% delle istituzioni volontarie ha comunque un orientamento di carattere solidaristico. Ora, i servizi caratteristici delle istituzioni volontarie. Quello che qui volevamo mettere in evidenza era il fatto che le istituzioni volontarie, cioè queste istituzioni che lavorano prevalentemente con volontari, erogano dei servizi, producono dei servizi che sono caratteristici, che non sono i servizi prevalenti a livello per quanto riguarda il settore non profit in generale, ma svolgono una serie di servizi dove è più significativo, l'apporto del lavoro volontario è più significativo, addirittura costitutivo. Vediamo appunto una serie di elenchi, non so se riuscite a vedere, e quindi la vigilanza stradale, manifestazioni pubbliche, esercizioni pratiche, sono tutti servizi in cui sono prevalenti l'apporto volontario. Queste sono le slide che riportano la distribuzione per settore di attività e settore e sottosettore di attività. La salto perché alla fine ho pochissimo tempo e vi do soltanto l'articolazione dei servizi erogati per singolo sottosettore, per cui le attività culturali e artistiche svolgono, questi sono i servizi prevalenti per quanto riguarda il settore della cultura, sport e ricreazione, quindi le istituzioni non profit volontarie organizzano, fanno tutta una serie di attività legate da una parte all'organizzazione di eventi culturali, quindi seminari, convegni, corsi di educazione civica, ricerca in campo artistico eccetera, così come invece le attività sportive si concentrano essenzialmente sulla organizzazione di attività, cioè di eventi sportivi, corsi eccetera. Questa è la distribuzione delle istituzioni attive nella sanità e anche qui vedete che sono prevalenti gli altri servizi sanitari, ovviamente queste istituzioni non sono le istituzioni prevalenti nei settori, non erogano servizi sanitari hard, per cui servizi ospedalieri, cioè strutture, non gestiscono strutture residenziali, ma quello che fanno essenzialmente sono una serie di servizi che possono essere erogati più facilmente dai volontari, quindi il primo è la donazione di sangue di organi in midollo, poi le campagne di informazione, i corsi ancora una volta di direzione civica, gli interventi di soccorso e di prima assistenza e altri. E infine anche questo qui, il settore dell'assistenza sociale, stesso discorso, in realtà sono prevalenti gli interventi per i servizi, per l'integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, campagne, sostegno socioeducativo. Vado di corsisti, ma questi sono gli utenti con categorie di disagio a cui le istituzioni non profit erogano i propri servizi e sono prevalentemente i malati, i poveri e soggetti con altre categorie di disagio. Anche in questo caso la distribuzione, la prevalenza di certe categorie di disagio rispetto ad altro è legata moltissimo al settore di attività in cui operano. E infine per provare a delineare le diverse componenti del settore non profit italiano è stata realizzata un'analisi multidimensionale che in qualche modo ha evidenziato una serie di dimensioni lungo le quali si può leggere il volontariato italiano. Nel primo grafico che vedete abbiamo cercato di leggere questi due assi nel primo fattore in termini di orientamento di partecipazione civica, solidarietà organizzata. Dall'altro lato c'è l'advocacy e quindi la tutela dei diritti. In questo caso che cosa si rappresenta? Che si evidenziano da un lato le istituzioni che sono di carattere mutualistico, vedete qui dove ci sono i corsi per la pratica sportiva, gli eventi sportivi, la gestione degli eventi sportivi dove sono delle istituzioni che in qualche modo autoreferenziali per cui producono dei servizi che sono essenzialmente per i propri soci. Non hanno diciamo una forma di, diciamo sono più relativi alla compagina associativa. Dall'altro lato c'è le istituzioni invece si possono individuare e delineare tutte quelle associazioni che hanno un carattere solidaristico e quindi svolgono attività di carattere solidaristico orientate o al benessere della collettività in generale o all'erogazione di servizi a soggetti particolari. Ora qui vedete come diciamo nel riquadro quello marroncino sono tutte strutturate, sono classificate in qualche modo individuate tutte le istituzioni che fanno una serie di attività legate al sostegno, diciamo al sostegno di categorie svantaggiate, quindi la gestione di centri di sportello tematico, l'immigrazione, il sostegno socioeducativo, il pronto intervento sociale, al massimo la gestione di centri diurni. Nell'altro grafico invece, lungo l'altro asse, individuiamo quelle che sono le istituzioni che fanno advocacy, in qualche modo fanno una forma di tutela dei diritti e nel caso in cui appunto non siano quelle mutualistiche, sono quelle orientate essenzialmente alla rappresentanza sindacale e alla tutela dei diritti, diciamo delle attività politiche e delle categorie sindacali. Sull'altro versante, in questo caso sul primo asse rispetto al terzo asse si evidenza quella che è la distinzione essenzialmente fra quelle che sono l'erogazione dei servizi alla collettività in generale, quindi diciamo l'orientamento delle istituzioni solidaristiche a quelle che sono le forme di cittadinanza attiva, quindi la promozione di politiche pubbliche i corsi di educazione civica, il consumo critico, la promozione di interventi per appunto le campagne di sensibilizzazione eccetera, da un lato, quindi in questa parte bassa del grafico, dall'altra ci sono appunto le istituzioni solidaristiche che invece erogano servizi diretti a soggetti svantaggiati e invece sull'altro vedete come in effetti le attività di carattere sportivo si caratterizzano molto bene, sempre in maniera distinta rispetto alle altre. Per concludere, quindi quello che si evidenzia dall'analisi è quindi questo, che le istituzioni si possono definire, si possono delineare una serie di componenti del anime del terzo settore, del volontariato italiano, per cui abbiamo le istituzioni solidaristiche che attuano quindi forme di partecipazione civica in termini di tutela, quindi di tutela e promozione dei diritti, di supporto ai soggetti svantaggiati e di cura dei beni collettivi che si articolano quindi tra quelle dedicate all'erogazione di servizi diretti a persone e quelle invece impegnate nella promozione del benessere della collettività. Dall'altro lato le istituzioni mutualistiche che sono legate essenzialmente ai bisogni degli associati e che se adottano forme di tutela lo fanno nei casi in cui fanno advocacy rispetto a particolari soggetti, soprattutto iscritti, quindi partiti politici, associazioni di categorie e sindacati. Poi ci sono le istituzioni mutualistiche classiche che fanno invece attività legate essenzialmente al soddisfacimento dei bisogni dei propri soggetti, dei propri iscritti, per cui soprattutto di svago, di socializzazione, le istituzioni sportive, quelle culturali, eccetera. Quindi in conclusione concludo, tirando un po' le fila del discorso, dicendo che appunto queste istituzioni volontarie che abbiamo delineato in questo quadro sono appunto i due terzi del settore non profit e concentrano la quasi totalità dei volontari. Hanno una partecipazione sociale abbastanza forte che ovviamente si differenzia a seconda dei settori di attività in cui le istituzioni non profit lavorano. Si distinguono per l'erogazione di servizi specifici rispetto a tutto l'universo non profit, dove appunto e soprattutto come dicevo prima più significativo l'apporto dei volontari e infine si possono caratterizzare in base a quelle che sono i loro orientamenti rispetto alla loro mission, i loro orientamenti rispetto a quello che può essere il loro obiettivo, il bel essere della collettività, la tutela dei beni comuni oppure l'erogazione e la tutela, il supporto a soggetti deboli. Ovviamente è soltanto diciamo un primissimo quadro, si possono essere fatte tutta una serie di approfondimenti con i dati sensuali che avete a disposizione. Chiudo ringraziando tutti, mi sono dimenticata di appunto fare prima ringraziamenti alla dottoressa Nicosia che mi ha aiutato nelle elaborazioni per questa presentazione e ovviamente ringrazio tutti i ragazzi dell'unità che hanno lavorato al censimento. E chiudo. Grazie a dottoressa Stoppiello, anche se ha sforato di qualche minuto però la perdoniamo perché la massa di informazioni fornite è stata abbastanza. Ora passerei la parola a Giovanni Bertin che propone dell'Università Caffoscari che propone una delle chiavi di lettura possibili attraverso il censimento. Una chiave di lettura quindi territoriale rispetto ai sistemi di welfare regionale, non c'è un solo welfare ma ci sono diversi modelli di welfare e vedremo come il volontariato si comporta e come reagisce ai diversi impianti di welfare che sono stati individuati in Italia. Se e come reagisce. Prego. Grazie, ringrazio anche io dell'invito e della possibilità che mi è stata data a cominciare e ragionare su questo. Grazie dell'avviso soprattutto. Allora il mio tentativo è... Posso andare? Grazie. 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 Il compito che mi è stato assegnato è quello di provare a capire se il volontariato e in particolare e in generale il no profit assume forme e caratteristiche diverse rispetto ai diversi sistemi di welfare regionali. Evidentemente ci sta una premessa prima sulla quale passerò la prima parte della mia relazione che in Italia non possiamo parlare di un sistema di welfare ma di sistemi regionali di welfare. Quindi io lavorerò su queste due dimensioni. Prima di tutto evidenziare quali sono questi sistemi di welfare e come li possiamo classificare e poi andare a vedere appunto che FORMES assume il volontariato dentro questo sistema. Quindi le mie ipotesi di lavoro sono due. La differenziazione significativa e forte dei sistemi regionali e l'altra è una ipotesi esplorativa, non è di conferma. Cioè la mia ipotesi è che assumano forme diverse. Il lavoro di analisi che ho provato a cominciare a fare è quello di tentare di evidenziare alcuni elementi che aiutano a ragionare su queste diversità. La relazione quindi la strutturerò su queste tre parti e volevo solo dire che il taglio è quello di tentare di trovare elementi, evidenze a queste ipotesi. Per quanto riguarda la classificazione dei sistemi di welfare vi riporto una ricerca che ho fatto per il ministero del lavoro e politiche sociali con la quale abbiamo analizzato i sistemi regionali di welfare e abbiamo usato una sessantina di indicatori strutturati su tre dimensioni fondamentali, vale a dire la titolarità nella pubblica privata o non profit e nella gestione dei servizi, l'estensione del sistema di offerta, quindi residuale versus universalistico delle politiche e il contesto, le caratteristiche del sistema dentro il quale si sviluppano i sistemi di welfare che io l'ho definito in modo generico contesto ma sta sia a monte che a valle, nel senso che è il motore che attiva le politiche ma neanche il risultato, quindi in qualche modo ci dice anche quali sono i risultati prodotti dai sistemi di welfare. Vedete questo slide, vi mostra che abbiamo usato un'analisi fattoriale che ci ha consentito di individuare sei fattori sui quali poi abbiamo costruito la nostra classificazione. Interessante sono alcuni flash su questo per mostrarvi che per esempio le regioni che presentano una estensione, ci sono alcune regioni che hanno sia servizi innovativi sia servizi tradizionali molto bassi, altri invece che hanno alti sia i servizi innovativi che i servizi tradizionali, per innovativi mettiamo tutti i servizi domiciliari per esempio i servizi dei nidi eccetera, mentre per i tradizionali sono quelli di cura eccetera, mentre altri che si stanno diversificando, cioè stanno puntando decisamente verso servizi più di tipo innovativo. Sempre a livello di flash per farvi un'idea dell'analisi che abbiamo fatto, per esempio se andate a incrociare i due dimensioni che riguardano il contesto, cioè i rischi sociali e la coesione sociale, vedete che ci sono una serie di regioni che hanno contemporaneamente a alti rischi sociali e bassa coesione sociale, quindi sono le realtà evidentemente che sono più critiche sulle quali sarà necessario lavorare. Partendo da questi fattori che abbiamo costruito alla fine abbiamo identificato sette diverse tipologie di sistemi di welfare, io ve ne ho segnati due, abbiamo fatto una cluster come vedete sotto là per costruire questa tipologia e io concentrerò la mia attenzione su il gruppo di regioni che abbiamo definito generose e consolidate dal punto di vista dei sistemi di welfare che hanno sistemi molto diffusi, quindi con una grande offerta e consolidati nel senso che mostrano una forte struttura, è un mix pubblico privato non profita abbastanza integrato. Cercherò di confrontarlo con le regioni più critiche che sono quelle sulla freccia rossa, vedete che appartengono al cluster che abbiamo definito di welfare minimo e a forte criticità sociale, quindi troviamo per capirsi un sistema più consolidato o più strutturato laddove abbiamo anche minore i rischi sociali e viceversa. Mi concentrerò su questi due aspetti perché evidentemente sono quelli che lavorare su queste due tipologie opposte ci aiuta a definire le specificità e quindi se i sistemi di volontariato e il no profit in questi due contesti finiscono per essere effettivamente e significativamente diversi tra di loro. Quindi confronterò da una parte le regioni che sono il Friuli, Venezia Giulia, la Toscana, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna e dall'altra la Puglia, la Calabria, la Campania e la Sicilia, concentrando su questi due. Prima di passare a confronto sul volontariato è spinto dalla necessità di capire i processi generativi dei sistemi di welfare, cioè se la presenza del volontariato ha contribuito anche a questa differenziazione. Volevo solo farvi notare una prima intanto osservazione che queste regioni, per esempio se guardate le regioni che noi abbiamo definito generalizzato nel cluster generalizzato e generoso, sono di queste cinque regioni almeno due storicamente appartengono a una cultura politica di centro-destra e altre due a una cultura politica di centro-sinistra. Quindi la variabile appartenenza politica non sembra essere la variabile principale che ha influenzato l'evoluzione dei sistemi di welfare. Molto più significative sono le relazioni con altre due variabili che sembrano quelle che almeno in una prima approssimazione ci contribuiscono a spiegare le differenze che sono la ricchezza prodotta, il PIL per capirsi, nelle diverse regioni e la coesione sociale. È interessante secondo me tenere presente queste due perché se andiamo a vedere quello che succede nella classificazione che viene usata per esempio a livello internazionale per comparare i sistemi di welfare vediamo che tutti i lavori da Espinandese in poi c'entrano soprattutto la dimensione strutturale, cioè la dimensione che ha a che fare più con l'economia più che quella culturale, anche se ultimamente una serie di lavori fatti e che si trovano in letteratura richiamano la necessità e la rilevanza che ha avuto la variabile coesione sociale, culturale, eccetera, nello sviluppare i sistemi di welfare. Detto questo provo a fare una prima sintesi che ci aiuta poi a interpretare le differenze. In tutti i territori assistiamo a un welfare mix però le combinazioni di questo mix finiscono per essere fortemente differenziate e i sistemi che ne derivano e che conseguenti hanno forti differenziazioni. I territori con maggiore criticità sono quelli con i sistemi più deboli e lo sviluppo è comunque uno sviluppo multifattoriale, cioè ci richiama l'idea che probabilmente non basta lavorare su variabili macro, su dimensioni macro per capire le differenze ma probabilmente è la dimensione micro che ci aiuta a interpretare i processi. Quando mi sono messo a analizzare i dati e tentare di confrontarli rispetto a questa impostazione, risulta subito evidente che probabilmente per interpretare i dati dal punto di vista dell'effetto sui sistemi di welfare e l'influenza reciproca che questo ha, probabilmente dobbiamo ragionare in due modi diversi. Da una parte considerare il volontariato nella sua interezza e dall'altro invece provare a concentrare l'attenzione sulle associazioni che sono dentro i sistemi di welfare perché sono produttori di welfare. Nel secondo caso che vedremo più, su quale spenderò un po' più tempo, io ho messo dentro tutte le attività che hanno a che fare con sanità e sociale e socio assistenziale in particolare perché evidentemente sono quelle che più vicine, tra quelle classificate che abbiamo considerato, sono sicuramente quelle più vicine alle politiche di welfare. Allora, per quanto riguarda il volontariato in generale, se guardate per esempio la presenza di volontari per 10.000 abitanti, vedete che c'è una scalarità quasi lineare. Io ho messo col colore rosso il sistema, per renderlo più evidente, il sistema minimale a elevata criticità e quello verde invece è quello generalizzato e generoso. Ma al di là di questo, questi grafici ci consentono di fare due osservazioni. La prima è che ci sono alcuni sistemi nei quali è più evidente uno spostamento da un welfare state a un welfare society, si diceva stamattina, nei quali si riconferma la presenza più forte del volontariato rispetto ad altri settori. Il Trentino Alto Adige, se avete già visto le altre ipotesi, gli altri dati che riguardano le regioni, sicuramente ha valori molto superiori al resto del sistema. Ma vedete che tanto più, se volete semplificare, tanto più andiamo verso condizioni di welfare critico, tanto più anche la presenza del volontariato è bassa. Quindi questo ci fa già fare una prima ipotesi dell'esistenza di una relazione di reciproca incentivazione allo sviluppo e alla crescita, cioè non troviamo un welfare, le prime impressioni è che il volontariato non cresce a sostituzione della carenza di un sistema, ma cresce proprio laddove il sistema è più consolidato, è più forte, quindi in qualche modo si consolidano reciprocamente questi sistemi. In questo caso ho provato a confrontare il sistema di welfare, o meglio a classificare i diversi sistemi di welfare relativamente a due variabili. Le risorse che attiva complessivamente il sistema in relazione alla popolazione dei territori su cui i sistemi di welfare insistono e dall'altra agli operatori sulla popolazione. Allora vedete che per esempio i sistemi cosiddetti welfare che abbiamo chiamato generalizzato mix societario è il sistema nel quale troviamo una maggiore presenza di volontari rispetto alla quantità di risorse che gli altri sistemi attivano. Al contrario invece vedete nell'estremo opposto troviamo il sistema minimale a criticità sociale nel quale abbiamo sia poca capacità di attivare risorse, sia una scarsità di operatori relativamente alla popolazione. Quindi il sistema minimale si caratterizza per essere il più debole dal punto di vista dei sistemi che abbiamo considerato, mentre vedete il sistema generalizzato generoso che è quello verde che vedete si trova in una specie di posizione intermedia fra questi due, cioè è in grado di attivare sia risorse economiche sia personale e operatori e volontari che sono in grado di partecipare a contribuire allo sviluppo di questi sistemi. Volevo fare alcune, allora prima considerazioni su questo flash, su queste dimensioni. Allora la correlazione possiamo dire che è una correlazione positiva tra consolidamento di welfare e associazionismo e volontariato in particolare. L'welfare pubblico e il volontariato crescono insieme, alcuni sistemi con propensione al welfare societario si confermano e mostrano una capacità di crescita del volontariato maggiore, laddove abbiamo un welfare di tipo consolidato il volontariato è una condizione più equilibrata. Questo discorso dell'equilibrio, lo vedremo, è una delle caratteristiche che troviamo anche rispetto ad altre variabili che considereremo. L'ultima, gli ultimi minuti, l'ultima parte del mio intervento vorrei dedicarlo ad approfondire più direttamente il rapporto tra welfare e volontariato, andando a studiare quelle che appunto sono le politiche o gli interventi relativi ai servizi di welfare. sempre concentrandomi da questo punto in poi solo su questi due sistemi, per problemi di tempo ho preferito usare questi due estremi del contesto. Questi che vedete sono gli elementi di differenziazione che specificano e caratterizzano in modo particolare, statisticamente significativo, i due sistemi. Allora il sistema minimale si caratterizza per maggior presenza di cooperativa sociale ai denti ecclesiastici, soci e associazioni con diritto di voto, adesione a consorsi, servizi di assistenza sociale, assistenza sociale come attività prevalente e i servizi offerti sono segretariato sociale, sostegno socioeducativo, interventi di integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, servizi ospedalieri generali e liabilitativi e raccolta distribuzione di vistiari alimenti. Qui vi faccio sottolineare soprattutto segretariato sociale, sostegno socioeducativo, assistenza sociale. Mentre se andiamo a vedere il sistema generoso e consolidato, i fattori di identificazione, di specificità se volete, sono la presenza di fondazioni e associazioni non riconosciute, l'adesione a consorsi, l'aver stipulato patti con le istituzioni pubbliche, l'aver stipulato patti con istituzioni no profit e l'aver stipulato patti con imprese. Quindi essere soggetti che, vedete, sono in grado di interagire con tutte e tre gli attori dei sistemi di welfare. Aderire a associazioni di secondo livello, aderire a coordinamenti tematici, avere operato in base a convenzioni, contratti o istituzioni pubbliche. Dal punto di vista dell'attività, erogazione di contributi filantropici, promozione volontariato, attività ricreative e di socializzazione, altri servizi sanitari, erogazione di contributi monetari e o in natura, altri servizi sanitari, gestione di centri, aggregazione di socializzazione. Già questi elementi di differenziazione vi evidenziano che effettivamente il volontariato assume forme e caratteristiche diverse nei diversi sistemi di welfare. Secondo me è particolarmente interessante andare a vedere le risorse da cui traggono la loro capacità di agire i sistemi di volontariato. Anche qui confrontiamo i due sistemi di cui vi parlavo. Allora, se guardate il verde, vedete che c'è una grande equilibrio. Nei sistemi di welfare più evoluti il volontariato e le associazioni non sono dipendenti dal pubblico, ma hanno una grande capacità di usare fonti diverse di risorse. Sicuramente convenzioni a rapporto col pubblico, ma vedete molto poca è la distanza relativa alla capacità di attivare risorse che hanno queste organizzazioni, quindi di essere soggetti che in qualche modo attraggono attraverso il meccanismo della fiducia, attraverso il meccanismo della forte relazione col territorio, ma hanno anche una discreta presenza nel mercato e quindi si muovono anche capaci di offrire beni e servizi all'interno del mercato. Quindi in sé sono soggetti misti perché usano le politiche del mercato, le politiche della solidarietà e le politiche del pubblico, del finanziamento pubblico. La cosa non è uguale nei sistemi a generosità, che ho definito minimali e elevata criticità, in cui vedete c'è un forte sbilanciamento del pubblico. In questo caso il volontariato è spesso un soggetto che vive in modo ancillare rispetto al pubblico, hanno sicuramente minor capacità di attrazione ai risorse, minor capacità di gestione finanziaria e il mercato esiste sì, ma è una presenza minimale rispetto agli altri elementi e altri soggetti. Questo secondo me è già un elemento di forte differenziazione che ci dice che conferma l'ipotesi iniziale, laddove abbiamo sistemi di welfare forti, abbiamo anche sistemi di volontariato e imprese forti, invece nel caso contrario si conferma la debolezza del sistema. Negli ultimi minuti che ho a disposizione, mi pare 4 se non sbaglio, volevo farvi vedere un paio di cose sull'incidenza, sulle categorie dei soggetti rispetto ai quali il sistema si rivolge. Allora da questo punto di vista troviamo un altro elemento interessante, se andate a vedere la tipologia del disagio per utenti, guardate il grafico in basso a destra, vedete che il sistema più consolidato, la salute è l'elemento fondamentale, cioè è il mondo della sanità quello nel quale la presenza è più forte e il secondo è quello della marginazione, ma la distanza fra questi due elementi è molto molto forte. Quello che è interessante andare a notare per esempio sull'incidenza della categoria, se guardate invece questa volta quello a sinistra, vedete che l'emarginazione per quanto riguarda i sistemi a elevata criticità ha quasi la stessa dimensione, quasi la stessa penetrazione della sanità e addirittura l'incidenza rispetto a devianza, droga e disagio è la stessa se non maggiore penetrazione di quella che hanno i sistemi consolidati. Questo fa ipotizzare, questa è un'ipotesi di lavoro che va approfondita, che laddove i sistemi siano più consolidati anche il sistema involontariato si orienta prevalentemente verso queste direzioni, mentre la capacità di maggiore variabilità, di maggiore incidenza, di maggiore adattabilità al cambiamento dei bisogni che ha il volontariato, che è dimostrato da altri lavori, sicuramente fa orientare anche nei sistemi minimali la minor capacità del volontariato proprio su questi contesti, sui contesti nei quali c'è una minor presenza del sistema. Qui possiamo probabilmente prendere una seconda ipotesi che laddove abbiamo a che fare con sistemi di volontariato, nei sistemi scusate più deboli, il volontariato è in grado quindi di attivare risorse che altrimenti sono più difficili da attivare. Volevo, salto anch'io una serie di slide perché se no non resto nei tempi, volevo tentare di tirare alcune conclusioni da questo punto di vista. Allora il primo è che sicuramente si manifestano legami forti tra le forme dei sistemi di welfare e il volontariato, ma non necessariamente una dipendenza. Esiste un mix di risorse, laddove i sistemi sono più forti, fra mercato, dipendenza pubblica e solidarietà, un consolidamento e una numerosità degli utenti maggiore, una logica sostitutiva piuttosto che integrativa. Quindi laddove abbiamo sistemi forti la logica è più integrativa, laddove abbiamo sistemi deboli, la logica è più sostitutiva dei sistemi di welfare. L'unico elemento di omogeneità è la composizione interna, cioè le differenze rispetto agli interventi assistenziali non sono poi così forti. Questa prima carellata o riflessione di una rilettura delle differenze del volontariato alla luce dei sistemi di welfare suggerisce peraltro una serie di indicazioni di approfondimento di ricerca che credo siano utili sui quali lavorare. Il primo dal mio punto di vista è che il volontariato assume caratteristiche diverse appunto in funzione dei sistemi di welfare, che costituisce un elemento dei processi degenerativi e che quindi per interpretare il cambiamento dei sistemi di welfare dobbiamo considerare lo sviluppo del volontariato come una variabile di spiegazione, non solo come una variabile di effetto, che cresce di più nei sistemi più evoluti, ha più capacità di adattarsi ai bisogni del territorio e nei sistemi deboli purtroppo finora è ancora caratteristiche più deboli, sostitutiva e dipendente dal pubblico. Grazie. Grazie professor Bertin, passo la parola alla professoressa Boccacin della Università Cattolica di Milano che affronterà il volontariato dal punto di vista generazionale, quindi i rapporti F5, se le schiaccio F5. A posto. Bene, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare l'Istat per questa opportunità di riflessione che mi ha offerto e in particolar modo voglio ringraziare le persone di Istat che hanno dato un contributo assolutamente prezioso e insostituibile alla realizzazione di questo intervento, in particolare la dottoressa Manuela Nicosia e la dottoressa Stoppiello. Senza alcun aiuto non avremmo certamente potuto arrivare a vedere quello che vediamo adesso. Vi dico subito il punto di vista che ho adottato per svolgere queste riflessioni e che è sintetizzato dal titolo. Il binomio che voi vedete nel titolo, volontariato e generazioni, offre proprio una sorta di chiave di lettura per il tipo di approfondimento che vorrei svolgere rispetto ad alcuni elementi contenuti nei dati di censimento. Cioè i dati di censimento, come abbiamo sentito stamattina, come anche abbiamo sentito prima nella presentazione della dottoressa Stoppiello, sono una miniera. Quindi io mi concentrerò solo su alcuni aspetti di questi dati che adesso dirò. Alcune osservazioni preliminari. Qui facciamo riferimento al fenomeno del volontariato. è un fenomeno assolutamente specifico nell'ambito delle istituzioni non profit. Perché è specifico? Perché immette in queste istituzioni, abbiamo visto stamattina la grande diversificazione che le caratterizza, immette in queste istituzioni un patrimonio etico-valoriale insostituibile. Patrimonio costituito da codici oblativi, gratuiti, di reciprocità e di solidarietà. Quindi non stiamo parlando, come dire, di una componente che ci sia o non ci sia fa lo stesso. Stiamo parlando di una componente strategica per qualificare un'azione che, oltre a essere non profit, come ormai ci siamo abituati ad ascoltare, è un'azione eminentemente pro-sociale, cioè a favore della socialità e, come abbiamo anche sentito in precedenza, di netta matrice solidaristica. Quindi questa componente e analizzare le caratteristiche di questa componente nell'ambito delle istituzioni non profit mi sembra, proprio dal punto di vista, come dire, dell'avvio della riflessione, una componente totalmente strategica in quest'area e assolutamente strategica, come molte ricerche condotte ormai da tanto tempo ci hanno dimostrato, in particolar modo caratterizzante il terzo settore italiano. Cioè il terzo settore italiano non sarebbe quello che è, sia in termini di numeri, come abbiamo sentito stamattina, sia in termini di incidenza nel sociale, se non ci fosse la componente volontaria. Questo è un primo aspetto che mi preme molto mettere al fuoco dell'attenzione. L'altro aspetto, come dire, importante, l'altro punto di riflessione che appunto ha un po' orientato la rielaborazione dei dati è rappresentato dal tema delle generazioni. E qui vorrei proprio spendere due parole per chiarire questo passaggio che non è solo demografico, nel senso che, anche se naturalmente il livello demografico è il primo livello che valsa gli occhi, soprattutto facendo riferimento ai dati di censimento, quando parliamo di generazione. Voglio dire questo. Noi viviamo in una società molto differenziata, una società molto aperta, in cui sembrano venire meno i confini. In realtà è una società a forte separazione generazionale. Cioè le generazioni stanno tra loro separate, raramente vengono incontrate tra loro. Abbiamo situazioni che a volte potremmo addirittura definire nei termini di vera e propria segregazione generazionale. Allora, in questo tipo di contesto che tende a essere molto frammentato, molto rarefatto, molto evalescente dal punto di vista relazionale, avere contesti che consentono ai membri delle diverse generazioni di venire in contatto tra loro, di stabilire relazioni e attraverso queste relazioni di produrre effetti positivi e propositivi per i contesti sociali, è veramente un punto strategico e rinunciabile per il miglioramento della qualità della vita dei nostri stessi contesti. Le istituzioni non profita, al cui interno sono presenti appunto volontari, sono tra i pochi ambiti sociali in cui le diverse relazioni e gli appartenenti alle diverse generazioni possono appunto entrare in relazione e possono farlo scegliendo di entrare in relazione. Altro aspetto che vorrei porre alla vostra attenzione e che caratterizza ancora una volta il terzo settore italiano è proprio rappresentato dal fatto che nel nostro Paese l'azione prosociale di matrice solidaristica è un'azione che per la stragrande maggioranza delle situazioni viene svolta all'interno di contesti intersoggettivi, cioè di organizzazioni. Questo fa assolutamente la differenza perché porre, come dire, il proprio desiderio, la propria motivazione prosociale di natura oblativa all'interno di un contesto intersoggettivo consente di poterlo confrontare con gli altri, consente di dialogare con altri, consente il confronto con posizioni differenti. Fare il volontariato individuale non offre la stessa possibilità. Quindi da questo punto di vista, come ho indicato nel lucido, le istituzioni non profit con volontari appunto sono, vi dicevo prima, tra i pochi ambiti sociali intergenerazionali, cioè in cui le varie generazioni possono venire a contatto tra loro e per certi versi rappresentano una specie di palestra, cioè di luogo in cui ci si può incontrare, dialogare e relazionarsi. Vengo ora ai dati. Allora, noi abbiamo fatto un certo lavoro sui dati del censimento perché volevamo suffragare dal punto di vista empirico questa caratteristica della intergenerazionalità delle istituzioni non profit con i volontari. Per cui il primo passaggio fondamentale è stato quello di costruire una variabile, quella che vedete alle mie spalle, in cui gli oltre 4 milioni 700 mila volontari sono stati ricondotti alle classi di età di appartenenza e appunto, come dire, messi in una variabile che va a 100 e che quindi non si sovrappone. Potremmo dire moltissime osservazioni su questo tipo di situazione, ma vorrei solo fare queste due notazioni. Una, già notata la dottoressa Stoppiello, la classe assolutamente più numerosa è quella degli adulti, 30-50 anni, vedete oltre il 43%. Che cosa ci dice questo dato? Questa è una riflessione secondo me che potrebbe essere ulteriormente sviluppata. Che il volontariato italiano è un fenomeno assolutamente adulto, è un fenomeno stabile, quindi non è un fenomeno precario, volatile, giovanilistico, tra virgolette. Questo è un dato che era emerso addirittura in una pioneristica ricerca a cui avevo avuto la fortuna di partecipare, ahimè, all'inizio degli anni Ottanta e che ha poi trovato conferma in tutte le varie rilevazioni locali e regionali e adesso a maggior ragione questa censitaria successive. Quindi stiamo parlando di un fenomeno assolutamente stabile, diffuso capillarmente nel territorio e consolidato. Altro dato secondo me molto significativo che emerge da questa prima tabella è rappresentato dal fatto che il 20% dei giovani fino a 29 anni offre attività di volontariato. Credo che questo dato da solo smentisca lo stereotipo troppo spesso diffuso sul disimpegno giovanile. Altrove, anche stamattina è stato detto, aumenta il volontariato, aumenta l'attività di partecipazione dei giovani al di fuori delle organizzazioni di volontariato. Credo che questo dato metta in discussione questa affermazione. quello che noi notiamo e che è anche emerso da questa indagine in modo chiaro aumenta la disaffezione dei giovani per quanto riguarda alcuni tipi di attività partecipativa segnatamente di tipo politico. Infatti questo è un dato che è emerso anche in questa ricerca. Ma credo che questo non possa consentire l'equivalenza con dunque i giovani sono disimpegnati dal punto di vista prosociale. Credo che questo 20 per cento sia molto significativo. Abbiamo poi provato a riorganizzare le nostre istituzioni non profit tenendo conto della presenza di una o più generazioni nell'ambito della componente volontaria. Guardate il dato che emerge abbastanza credo interessante e sorprendente. Cioè quasi il 70 per cento delle istituzioni non profit che hanno al loro interno volontari ha al proprio interno almeno due generazioni. Quindi la famosa tesi delle istituzioni non profit come palestra per relazioni intergenerazionali comincia a trovare un certo riscontro empirico. Vengo adesso alla variabile portante di tutta la nostra riflessione. Abbiamo provato a ricondurre le 243.000 istituzioni non profit entro cui sono presenti i volontari alla composizione generazionale dei volontari stessi facendo un arduo lavoro che evitasse le sovrapposizioni e ci consentisse di andare a cento perché questo era il nostro obiettivo. Dopo vari tentativi abbiamo potuto costruire questa variabile in cui voi vedete molto bene abbiamo istituzioni non profit nelle quali la composizione generazionale dei volontari prevede tutte le quattro generazioni, cioè giovani, adulti, maturi e anziani. Spendo solo una parola su questa classificazione. Abbiamo estrapolato la fascia di età maturi 55-64 e la fascia di età over 65 perché anche da ricerche internazionali si vede che seppure ci sia una contiguità anagrafica di queste corti c'è però una assoluta specificità di queste due componenti che ci pareva la pena sottolineare. Dicevo, allora abbiamo istituzioni non profit entro cui sono presenti tutte le quattro generazioni che abbiamo considerato, istituzioni non profit entro cui sono presenti tre, almeno due di cui una costituita da giovani, due adulti maturi, adulti anziani, maturi anziani e poi abbiamo istituzioni non profit con volontari monogenerazionali come vedete. Allora questa variabile è stata poi utilizzata per effettuare una cluster vincolata. In realtà prima abbiamo effettuato una cluster libera esplorativa e poi su questa, alla luce anche dei risultati emersi in questa cluster, abbiamo effettuato un ulteriore cluster vincolandola a questa variabile. Che cosa significa? Significa che abbiamo voluto in questo modo trovare dieci cluster, cioè tutte le nostre tipologie per poterli caratterizzare analiticamente. Adesso ovviamente io non entro nel merito dei dieci cluster che abbiamo trovato anche se sono in realtà molto interessanti e vi do solo qualche rapido riscontro rispetto a quelli che ho evidenziato e che ai fini del nostro discorso, cioè ai fini della nostra ipotesi, sono le istituzioni non profit con volontari o ambiti intergenerazionali, sono quelli più significativi. Allora vedete, faccio alcune osservazioni di quadro. Le prime due modalità di questa variabile che corrispondono anche a due cluster, adesso non mi addentro nell'aspetto tecnico, cioè istituzioni non profit con volontari appartenenti a tutte e quattro l'età e a tre generazioni, da soli fanno il 30% del campione. Un dato indubbiamente significativo. Allora, la presentazione diciamo di questi due gruppi, in questo lucido la vedete insieme perché molte caratteristiche tra questi due cluster sono comuni. Abbiamo provato a caratterizzare un pochino questo gruppo di associazioni che abbiamo chiamato multigenerazionali, in cui ci sono almeno tre se non quattro generazioni, tenendo conto che appunto sono il 30% del nostro universo, quindi una quota molto significativa. Vedete, sono associazioni non riconosciute. Il settore prevalente è cultura, sport e ricreazione, ma abbiamo visto stamattina, questo è praticamente il settore modale, il settore più diffuso in tutto il nostro universo. In questo tipo di cluster, questo settore prevalente, seppure caratterizzante, prevalente in modo inferiore rispetto alla media del campione. Perché? Perché in realtà qui è più caratterizzante, più caratterizzante in questo tipo di istituzioni l'attività svolta nell'ambito sanitario e dell'assistenza sociale e della protezione civile, che è addirittura il doppio rispetto alla media del campione. Adesso qui non entro nel merito del dettaglio tecnico. Sono istituzioni che si collocano, vedete, dal punto di vista geografico nel nord-ovest e nel nord-est, svolgono come attività cura dei beni collettivi e sostegno dei soggetti deboli in difficoltà, ma anche tutela dei diritti e dell'attività politica e ambiente, sicure come il settore prevalente. Quindi, diciamo, le nostre organizzazioni multigenerazionali, come vedete, sono organizzazioni collocate dal punto di vista geografico e in cui anche è presente, questo mi sono dimenticata di dirlo, una quota consistente di associazioni riconosciute, quindi piuttosto strutturate, e anche una quota consistente di istituzioni a composizione mista. Abbiamo poi le istituzioni non profit composte da due generazioni, di cui una costituita da giovani. Ecco, questo tipo di cluster si caratterizza, è l'unico, in modo peculiare per quanto riguarda la distribuzione geografica. Vedete, queste istituzioni sono presenti al sud, nelle isole, oltre che al nord-est e al nord-ovest, che è abbastanza una costante, attività prevalente, cultura, sport e ricreazione, sono associazioni non riconosciuti. Si tratta complessivamente qui di organizzazioni caratterizzate da una maggiore informalità, molto attive sul versante ricreativo e sportivo e meno presenti sul versante dell'assistenza di tipo tradizionale, a fronte di un dato che invece caratterizza l'universo da questo punto di vista. Poi abbiamo le istituzioni non profit composte da volontari adulti e maturi. Queste sono caratterizzate appunto dall'essere associazioni non riconosciute, si trovano nel nord-ovest e nel nord-est. Un tratto distintivo di questo gruppo è che questo tipo di istituzioni non profit svolge in modo prevalente attività relative alla rappresentanza di interessi e alle relazioni sindacali. È l'unico cluster in cui emerge questa qualificazione, infatti dal punto di vista dell'attività svolta emerge la promozione e la tutela dei diritti. Questo è anche l'unico cluster in cui non emerge tra i settori di attività, come vedete nella tabella, quello più diffuso rappresentato dalla cultura, dallo sport e dalle attività ricreative. Le istituzioni non profit invece composte da volontari, maturi e anziani sono presenti in modo molto massiccio, guardate le percentuali nel nord-ovest e nel nord-est. Sono associazioni sia riconosciute sia non riconosciute, cioè c'è la presenza di entrambe le tipologie, così come sono associazioni nelle quali anche la composizione mista, cioè la presenza di altre figure oltre ai volontari, è molto significativa. Le associazioni di questo cluster sono attive nell'area del supporto dei soggetti deboli e nell'area dell'assistenza sociale e della protezione civile. Quindi come vedete questo tratto diciamo con questi cluster noi abbiamo potuto identificare un po' il profilo socio-organizzativo delle nostre istituzioni non profit in cui sono presenti i volontari questa identificazione del profilo fatta con riferimento alla compresenza tra generazioni. adesso rapidamente brevissime osservazioni rispetto al settore di attività prevalente. Allora prendendo questa categoria della multigenerazionalità che è un po' lo specifico di queste riflessioni abbiamo provato a identificare la multigenerazionalità come una sorta di spartiacque e allora vedete abbiamo le istituzioni non profit che operano nel settore dell'istruzione e della ricerca sono istituzioni assolutamente di tipo monogenerazionale. Invece decisamente multigenerazionale si colgono al di sopra di questa linea sono le istituzioni non profit che si dedicano all'assistenza e alla protezione civile. Vedete sono composte da volontari di tutte le generazioni, di tre generazioni, almeno di due generazioni. Su un livello intermedio invece si collocano le istituzioni non profit che si dedicano alle relazioni sindacali che oscillano vedete tra l'essere composte da due generazioni peraltro contigue cioè adulti e maturi e da una sola generazione e analogamente dall'altra parte le istituzioni non profit che si occupano di cultura e sport generazione neanche se composte da due generazioni o da una generazione ma come vedete molto connotate dalla presenza della componente giovanile. Allora è evidente che questo è un primissimo quadro. Si potrebbero fare moltissime altre osservazioni, si potrebbero come dire anche mettere in luce ulteriori caratteristiche sia relative ad esempio ai cluster di cui non ho parlato sia anche alle implicazioni che per esempio questa situazione assolutamente intergenerazionale che caratterizza questo comparto del settore non profit che è un comparto comunque molto consistente, 241 mila istituzioni, ma naturalmente io mi fermo qui. Grazie Bene, grazie professoressa Boccacin Qual è il progetto? Questo Progetto desiderio, ragazzi Questo Quindi do la parola al professor Volterrani dell'Università di Roma 20 minuti, giusto? Allora, buonasera a tutti, mi immagino abbastanza stanchi, ma mica perché chi mi ha preceduto semplicemente perché ascoltare le riflessioni accompagnate dai numeri è complicato per tutti. Allora, quindi ho un compito difficilissimo, c'è l'ultima relazione, come dire, o fai veloce o dici qualcosa di senza. Ci provo. Rispetto al censimento, la prima cosa che mi è venuta in mente, perché quelle che abbiamo fatto sono punti di vista, tagli, riflessioni rispetto al censimento, potrebbero essere dette tantissime altre cose e ciascuna delle persone che è, a dirà di Sabrina, che ovviamente ha fatto il quadro più generale, come gli con Pepe rispetto all'Istat, giustamente, tutti noi abbiamo dato un taglio. E io ne darò un altro ancora. Un altro ancora che, tra l'altro, ha avuto delle difficoltà iniziali. E le difficoltà iniziali, fa questa premessa, perché all'interno del censimento io cercavo delle cose e non c'erano. No, non c'erano, no, perché c'è un errore da parte dell'Istat, semplicemente perché nel questionario alcune domande non c'erano. E non trovando poi le domande, come ci arrampichiamo sugli specchi? E' dura, è difficile. Vediamo se ci siamo riusciti. E guardo Sabrina, soprattutto Stefania, che poi dirò delle cose, Stefania Della Cueva, che è qui in sala. Parto dalla riflessione che, come dire, più astratta non si può. Citando Galileo Galilei, mio corregionale, fa scena semplicemente perché... Galilei, nel famoso dialogo sui massimi sistemi, proprio perché si occupava di scienze dure, diceva che era opportuno una visione riduttiva e riduttivista dei concetti e delle azioni da indagare mirate a difalcare gli impedimenti della materia. Cioè lui doveva trovare l'essenza, il cuore della natura. Ecco, e quindi, come dire, in qualche modo doveva togliere di mezzo, andare a ciò che fosse l'essenza profonda. Bene, a noi invece di impedimenti della materia piacciono tantissimo, a me particolarmente. Cioè, tutto ciò che è impedimento, che non mi fa capire, che è confuso, è più divertente. Più forte di me. Ma no, non è più forte di me, è semplicemente un tipo di approccio anche alle questioni, diciamo, della scienza. Perché nonostante che ci siano scienze reputate più importanti delle altre, ci sono approcci diversi alla scienza. E l'approccio di Galileo è evidentemente, fondamentalmente importante per, e lo è stato, e lo è tuttora, per le scienze, diciamo, scientifiche dure, ma per le scienze umanistiche c'è l'uomo, c'è un approccio che a me piace molto di più. Perché dico questo? Perché quello che a me interessava riuscire a recuperare all'interno del censimento è se esisteva, esiste un valore sociale, aggiunto e specifico del volontariato, del terzo settore, punto interrogativo, se esiste ancora o se è mai esistito. Perché poi questa domanda? Perché una serie di incontri, anche preliminari, a cui ho avuto occasione di partecipare rispetto alla costruzione del convegno, e anche alcune riflessioni di stamani mattina, sembrava che a un certo punto, diciamo, vabbè, sulle 301 mila organizzazioni ciò che conta è solo la parte dell'economia sociale, che sono una parte, come ci ha fatto vedere Sabrina, tutto il resto mi pare che sia qualcos'altro. E ha anche un valore economico molto basso rispetto all'altra parte, che numericamente è bassa, produce tanto valore economico, però da un punto di vista del coinvolgimento della popolazione, quindi di un tratto distintivo, di una differenza, di un impatto anche sociale più rilevante, lo vedevo meno. Mi è stato risposto che è importante l'impresa sociale, punto. Però a me questa cosa mi piaceva, e allora, come dire, il taglio è differente. Parto da che cosa? Da, e qui davvero salgo sulle spalle di un gigante, perlomeno per quello che mi riguarda, che è Pierre Bourdieu, sul concetto di costruzione sociale del gusto, un libro bellissimo, degli anni Ottanta, in cui lui poneva il problema che il gusto è costruito socialmente, e poi un concetto sempre costruito da Bourdieu sull'habitus, cioè riuscire a capire che cos'è che contraddistingue qualcosa da qualcos'altro. Cerco di renderlo molto semplice, anche se poi il concetto di habitus è molto più complesso rispetto a quello che vi sto dicendo adesso. Il problema cioè della distinzione, cioè ciò che distingue, ciò che distingue il volontariato da altri soggetti, ma ciò che distingue anche il terzo settore da altri soggetti. Perché se il terzo settore è sostanzialmente identico all'impresa, io voglio l'originale, perché la brutta copia so che farmene. Se invece c'è una distinzione, dove sta questa distinzione? Cioè qual è la differenza? Perché si fa volontariato il terzo settore e perché invece non si fa impresa o pubblica amministrazione o Stato? Come dire, ognuno ha le sue paranoie, no? Il mio pensiero è questo, la mia riflessione, il mio cruccio. Ricostruire l'habitus del volontariato significa analizzare e evidenziare tutte quelle dimensioni, quelle pratiche sociali, quei concetti, quegli ambiti che possono far parte dello spazio sociale condiviso dalle organizzazioni e contemporaneamente porsi il problema della valutazione della potenzialità distintiva per l'appunto il gusto. Su questo ho fatto altre riflessioni in un libriccino un po' di tempo fa individuando alcune dimensioni possibili della distinzione del volontariato e del terzo settore. Erano 21 per cui dice che roba è l'alfabeto della coesione sociale? Ma è un gioco, questo evidentemente non è le uniche possibili dimensioni della coesione sociale. È una scelta, alcune sono più semplici, alcune sono addirittura ovviamente condivisibili con molte altre organizzazioni e molti altri soggetti, ma alcune potrebbero caratterizzare questo mondo. Nel censimento che c'era di tutto questo. Durissimo, era dura trovare, chi ci trova dentro? C'era tutta la parte economica, ma in modo pesante. E quindi la parte economica non mi interessava granché rispetto al tratto distintivo perché semplicemente se c'è la misurazione qui fatemelo dire, una volta sola, poi non lo dirò più nella vita mia. C'è una grande prospettiva consolidata di misurazione economica del volontariato, legittima, non condivisibile, ma sarà possibile che ci sia solo quella e non lo dirò più. No, lo dirò altre volte, però quando mi capita lo dico. Oggi, infatti. Altre volte mi capiterà di dirlo. Semplicemente perché ha una prospettiva che se io misuro solo economicamente il volontariato non riesco a capire qual è il tratto distintivo. anzi, lo metto in relazione ai soggetti dai quali si dovrebbe distinguere. Uso i parametri su cui si validano gli altri soggetti per valutare il soggetto volontariato. Questo è il concetto che non può tornare. Però, la prospettiva è dalla John Hopkins in avanti che è stato fatto questo tipo di lavoro. Non mi chiamo Giovanni Moro, adesso andremo al terreno. E il rispetto a questo è una riflessione, credo, leggermente più corretta da un punto di vista scientifico. Andando avanti. Questionario. Poche domande che esplorano qualche sassolio dalla scarpa che volevo togliere. Ma ce ne sarà un'altra, me lo tolgo prima della fine. C'è libertà ancora in questo paese, dai. Pochi minuti. Focalizzeremo, almeno l'intenzione è focalizzare l'attenzione su quattro cose. Mutualità interna ed esterna. Ma incuriosito tantissimo il dato trovato fuori, tirato fuori dal censimento rispetto a una caratteristica del volontariato che non avrei pensato che ci fosse. La questione della partecipazione, vista per quello che potevamo vedere dal censimento, una questione più banale, ma capire se era vero o no che continuava ad essere importante la dimensione della prossimità territoriale del volontariato. E l'altra, la questione dell'educazione, della cittadinanza, democrazia, punto interrogativo. Fa qualcosa, ci prova. Sono delle dimensioni che, come dire, potrebbero contraddistinguere insieme a tante altre, ma queste erano quelle che potevamo forse tirare fuori dal censimento. Cominciamo alla prima. Prima novità, secondo me, da quello che veniva fuori dal censimento, cioè, altrimenti stavolta, secondo me, no. I numeri sono rilevanti. E tra l'altro sono, come dire, semplicemente degli incroci fra variabili. Niente di più, niente di meno. Quindi il dato quasi grezzo. Una prima novità è la presenza di una forte mutualità inedita per il volontariato. Associazioni riconosciute e non riconosciute. È elevatissimo. È quella cosina salmone. 34,7, 43,7. Rispetto ai comitati. Come dire, si fanno servizi solo ai soci. Curioso, no? Volontariato sia per definizione, no? Sia anche per legislazione avrebbe dovuto fare servizi all'esterno. Ai soci e all'esterno. Va benissimo. Solo ai soci è un po' curioso. È una percentuale molto elevata. Che sarà successo mai? Che robaccia saranno queste? Da approfondire, chiaramente. Dico robaccia, tra virgolette, ovviamente, senza dare un giudizio di valore. È una cosa piuttosto curiosa. Così come è curioso anche che dall'altra parte ci sia una percentuale estremamente bassa di organizzazioni che fanno servizi solo ad altri. Ma un tempo il volontariato era nato per fare servizi agli altri. Poi ha cominciato a farlo anche ai soci. Ora adesso lo fa anche solo ai soci. È come se si fosse chiuso, no? Cioè, una sorta di ritirarsi all'interno di gruppi come dire, più coesi di sicuro ma anche meno capaci di dialogare con l'esterno. È un dato particolare. Diciamo che non tornerebbe rispetto alle riflessioni invece di un tratto distintivo o di una capacità di costruire capitale sociale che costruisce relazioni, no? Invece sarebbe proprio un capitale sociale bonding, chiuso, come si dice o come sono le categorie rispetto al capitale sociale. La seconda novità appunto era quello del fatto che se io svolgo servizi verso gli altri quindi che non sono soci la faccio in misura le organizzazioni sono poche che fanno solo questo rispetto alla totalità e si sta parlando sempre di numeri molto elevati perché stavano su 250.000 organizzazioni quelle che ci ha fatto vedere Sabrina cioè non stiamo parlando di piccoli numeri. Sarebbe da approfondire da capire meglio che cosa ci sta dentro a questa cosa ovviamente per una prima lettura una prima riflessione secondo è partecipazione 1 perché ci sarà una partecipazione 2 e poi c'è una comunicazione 1 insomma vabbè le organizzazioni più recenti sono anche quelle più partecipate e questa volta è proprio netta la correlazione si direbbe è ovvio che la domanda che prendo in considerazione è l'unica possibile che mi consente di fare una riflessione sulla partecipazione che è le percentuali dichiarate dei partecipanti all'ultima assemblea per l'elezione del presidente dell'associazione cioè il momento elettivo in genere il momento elettivo sono partecipati sono tanti amici qui di organizzazioni volontariate nel momento dell'assemblea di elezione la gente c'è quindi se non ci sono è un po' strano poteva essere una variabile da non usare però poi abbiamo valutato e soprattutto in Istat c'è stata una valutazione corretta perché la risposta aveva queste caratteristiche perché se fosse stato tutti hanno risposto da 75% in su che si è stata una valutazione domanda che si è stata una valutazione Grazie a tutti.